Mentre il fronte dei sindaci con il sostegno delle associazioni degli autotrasportatori al momento conferma la manifestazione del prossimo 31 dicembre al casello dell'Aquila contro il caro Pedaggi, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti i funzionari del Ministro Toninelli si sono confrontati ieri per otto ore con i dirigenti di strada dei parchi. Obiettivo del lungo faccia a faccia raggiungere una soluzione per tamponare l'emergenza rincari, ma anche per riaprire la partita ben più ampia del nuovo piano economico-finanziario. Al termine il vicepresidente di strada dei parchi, Mauro Fabris, ha dichiarato di aver fornito ampia disponibilità rispetto alle cose che sono state chieste, compresa la questione tariffaria. Ora aspettiamo una risposta formale da parte del Ministro, aveva detto. Adesso a sbloccare la trattativa tra Ministero e concessionaria è intervenuto un terzo soggetto, l'ANAS, ente vigilato dal MIT, che secondo la soluzione condivisa nel tavolo, abbonerà a strada dei parchi l'importo di 56 milioni, provento dei pedaggi, che la società versa ogni anno. Una somma in grado di bloccare da subito gli aumenti, in attesa della definizione del PEF. Nella tarda mattinate di oggi il Ministero di Toninelli ha inviato un atto di indirizzo all'ANAS, in tal senso, una volta ricevuto l'input dal Ministero di Portapia, l'ANAS a sua volta riunirà il CDA per dare l'assenso all'operazione, aprendo l'unica concreta via d'uscita prima della mezzanotte di Capodanno.